... Sindaco Nicola Tripodi, siamo qua a Ricadi per la presentazione del libro del nonorevole Martelli sulla storia di Falcone. Sì, è un evento importante, è un libro di Martelli scritto a 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone. Il libro sostanzialmente vuole fare chiarezza su una vicenda che ha interessato non solo Palermo ma l'intera Italia. La storia di Falcone è la storia di Palermo degli anni Ottanta. E quindi è una storia che bisogna leggere, rileggere e sicuramente non dimenticare. La cultura come volano per il turismo nella Costa degli Dei? Ecco, noi su questo stiamo investendo parecchio. Questa è la presentazione del libro di Martelli, un evento a carattere culturale anche, ma tantissime iniziative di carattere culturale che andremo a sostanziare nel corso dell'estate, in particolare all'amfiteatro di Torre Marrana, dove ci saranno insieme ad eventi culturali e anche eventi di carattere teatrale. E anche, insomma, dell'interesse particolare, insomma, su temi che interessano particolarmente il territorio e la Costa degli Dei. Grazie. 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 Grazie.